Oggi di nuovo un'apertura speciale dedicata non soltanto allo sport e al Giro d'Italia ma più in generale alla Carovana Rosa e con anche tanti momenti di festa e tante persone che seguono il Giro d'Italia nelle diverse tappe. Quella di oggi è l'undicesima di questo Giro edizione 2024 e prevede l'arrivo a Francavilla. Non è la prima delle tappe abruzzesi e non è neanche l'ultima ma per raccontarci anche come la città di Francavilla al mare sta vivendo questi attimi, queste ore che precedono l'arrivo che poi è previsto nel pomeriggio abbiamo in diretta con noi Enrico Giancarli che tra l'altro so che ha un ospite davvero super super speciale. Ciao Enrico, buongiorno. San Salvo è già vincitore lo scorso anno a San Salvo, grande favorito con Tim Merlier e Alberto De Nessi. Francesco Moser, che tappa sarà? Dovrebbe essere i per velocisti se non ce la fanno scappare perché le fughe insomma ci sono tanti corridori che per vincere devono andare in fuga però il finale è molto veloce con il vento a favore sarà qualche problema una volata perché invece il vento sarà contro se torna indietro praticamente rispetto alla marcia che viene dal sud. E bisognerà stare attenti nella volata e di non scoprirsi troppo presto però Milano è un uomo potente che forse è favorito in una situazione del genere. Francesco Moser in Abruzzo non solo è famoso, è famosissimo. Qui un po' di più per te con Palmiro Masceretti avete scritto la storia. Ebbene, abbiamo fatto tanti anni assieme ma io ho vinto nel 75 il campionato d'Italia per la prima volta poi l'ho rivido altre volte ma Matteotti era una tappa molto importante. Adesso tutte queste gare hanno perso un po' di importanza perché con il cambiamento del calendario non c'è più quell'interesse che c'erano a voi. Però qui col giro siamo arrivati al block house quando ho preso la maglia rosa che avevo presa la crono digitale al prologo. Poi Pignone l'ha strappata con la cronometro a squadra e poi qui l'ho ripresa. Poi Pignone l'ha ripresa di nuovo ma alla fine a Verona l'ho riconquistata. Grazie, buon giro a Francesco Moser. Restiamo un attimo in linea Marina perché abbiamo il sottosegretario Damario qui in diretta con noi. Buon pomeriggio Damario, una tappa a cui lei tiene tantissimo. Beh, diciamo che arriva a casa mia, una tappa su cui abbiamo lavorato già da un anno. Oggi devo dire che Francavilla si è fatta trovare decisamente pronta. Uno spettacolo, associazioni che hanno partecipato, negozi, commercianti, tutta la città è dipinta di rosa. Quindi sicuramente una bella giornata di sport e di promozione nelle nostre splendide spiagge. Gente, ne approfitto Damario e ridiamo la linea Marina Moretti perché Avezzano, quando è partita la tappa, sia il sindaco che l'assessore regionale Quaglieri hanno prenotato la cronometro del Fucino. Il sindaco di Chiedi ha prenotato una tappa nel 2025 che Chiedi è città dello sport. Cosa ci può dire? Che 2025 sarà? Vediamo, sarà sicuramente un 2025 in cui l'Abruzzo sarà ancora protagonista nel Giro d'Italia. Adesso vedere quale tappa mi sembra abbastanza prematuro, però sicuramente ancora una volta il Giro d'Italia sarà protagonista in Abbruzzo. Grazie al sottosegretario Damario Marina dal traguardo di Francavilla. Io ti restituisco la linea ricordando che qui intorno alle 17 arriverà il gruppo con Tadej Pogacar in maglia rossa e tutti attendono la volata della maglia ciclavino di Jonathan Milan a te.